Eh sì, sono anni che passiamo davanti a quei morti e sono talmente tanti anni che quasi non li vediamo più. Il Presidente della Repubblica dice che quelle stragi erano un ricatto, ma noi quasi non ne vogliamo parlare di questo ricatto, come se gli americani smettessero di chiedersi come è stato ucciso Kennedy e perché. Grillo dice che non ci sono più i mafiosi di una volta, quelli avevano un codice, quei mafiosi. Non so a quando l'ha data questa trasformazione. Chi ha massacrato dalla Chiesa e sua moglie lo aveva, questo codice, e quelli che hanno fatto saltare in aria Chinnici lo avevano, il codice, o ce l'avevano quelli che hanno cancellato con il Tritolo i gemellini Asta e la loro madre nell'attentato a Carlo Palermo. Oppure ce l'avevano gli assassini di Placido Rizzotto e di De Mauro. Festeggiavamo un programma di Rai 3 quando è arrivata la notizia dell'attentato a Via Fauro a Maurizio Costanzo. Così sono scappato subito via e quando sono arrivato sul luogo dell'attentato ho visto quell'enorme buca nell'asfalto, il cratere della bomba e persone che si aggiravano tra i detriti e mi guardavano con un'aria smarrita. Perfino Manganelli, che poi sarebbe diventato il capo della polizia e che dirigeva le operazioni sul campo, scuoteva la testa incredulo perché non si era mai visto la mafia colpire con tanta determinazione militare fuori dalla Sicilia. Via dei georgofili a Firenze, l'attentato agli uffizi, la morte di quella bambina e di altre quattro persone, le altre bombe che sono venute qualche mese dopo. Perché? Continuava a chiedermi Maria De Filippi. Perché Michele? Perché? Era sdraiata sul letto, aveva un plaid addosso e gli occhi fissi davanti a sé. Perché? Le stragi, secondo qualcuno, sarebbero controproducenti, solleverebbero indignazione e voglia di cambiamento. Ma quella Sicilia delle lenzuola ai balconi contro la mafia? Oppure la Sicilia dei commercianti di Capo d'Orlando contro il pizzo? Oppure la staffetta di Samarcanda con Maurizio Costanzo in cui avevamo chiesto agli italiani di spegnere la luce per protestare contro la mafia? Le rivolte popolari che vennero dopo Capace e dopo Via D'Amelio? Tutte queste cose sono state prima delle stragi. Perché dopo le stragi è subentrata una specie di rassegnazione. Perché? Ripeteva quella notte Maria De Filippi. Perché? Perché le stragi sono venute quando tutti abbiamo cominciato a sperare di diventare una democrazia normale, uno Stato normale, con una giustizia normale, un fisco normale e servizi segreti normali. Se noi fossimo diventati un paese normale, come volevamo diventare, allora adesso potremmo interrogare i morti. Se fossimo diventati una democrazia completa, forse i morti risponderebbero alle nostre domande. Dunque vitti una crozza e non girai la testa dall'altra parte, vedi Borsellino e gli parlai. Caro Borsellino, in fondo una vera democrazia è una cosa semplice. Ci sono delle forze che si sfidano in campo aperto, in maniera trasparente, con idee e interessi diversi e chi prende più voti governa e gli altri fanno l'opposizione così si preparano a governare nel futuro. Al tempo delle stragi non era ancora così ma volevamo diventare così e forse per questo ci furono le stragi. Ma adesso dice Renzi che il futuro è già cominciato. E io voglio chiedere a Borsellino, è vero che il futuro è già cominciato, che siamo già una democrazia completa. La canzone dice il vivo chiede ma il morto non risponde. Secondo voi perché?